Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Valentino Rossi The Game per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi eccoci tornati su questo titolo, dobbiamo partecipare alla seconda gara del mondiale MotoGP Oggi penso che in questo episodio vi porterò naturalmente due gare, ho letto i vostri commenti, penso che oggi proverò a utilizzare anche le gomme dure Perché l'altra volta purtroppo siamo arrivati in ultima posizione proprio per il fatto che non avevamo più gomme Adesso ragazzi naturalmente vado a fare le qualifiche qua a Rio Hondo e ci vediamo direttamente sulla griglia di partenza della gara Perfetto ragazzi eccoci qua pronti per la gara, allora ho già fatto la messa a punto della moto, ho cambiato le gomme davanti e dietro Ho messo le medie sia davanti sia dietro, speriamo servi a qualcosa Scendiamo naturalmente in pista, la qualifica è andata come è andata, pazienza Il livello di difficoltà è salito parecchio E diciamo che la CPU non va da spese, se deve darti una sportellata te la dà Mi piacerebbe arrivare almeno in zona punti, almeno Anche se non sarà sicuramente facile, bella partenza L'importante è frenare nel momento giusto e evitare che la moto scodazzi troppo Se no veramente non c'è niente da fare Ok, bella lì Dai che sono undicesimo, dai che sono undicesimo Però sarà durissima perché sono subito qua dietro In più loro guardate come frenano Ok, li ho rimesso subito dietro Mamma mia, non posso mai aprire troppo il gas C'ho Petrucci che mi sta martellando Meno male che l'ho rimesso subito dietro Poi qua entrano in un modo pazzesco loro Sono velocissimi Bella, bella, siamo usciti bene, siamo usciti bene Dai ragazzi, dai ragazzi Primo giro andato Ne mancano ancora due Leggero taglio La gomma dietro regge Quella davanti un po' meno Purtroppo si sta creando un buco tra me e Crutchlow E ho Barbera vicinissimo C'è quasi un secondo di differenza tra me e la decima posizione Attenzione Devono spingere Ok, visto che volete andare a sportellate ve le do anch'io Aia C'ho Barbera che mi sta stressando parecchio Ok, bella lì Ho perso troppo tempo Troppo tempo Siamo tutti vicinissimi Ok, ultimo giro Ho ancora le gomme buone per lottare con loro Smith sembra averne di più Io continuo a derappare leggermente Frena, frena fuori il piedino Ok, mi inserisco C'è il suo compagno di squadra là davanti Che sta lontano Con un altro pilota Già da alcuni giri Praticamente da inizio gara Attenzione all'erba qua No, lungo Ho dovuto mollare il freno Se non andavo giù Mi riprendo Attenzione La dodicesima posizione Sto lottando con le Ducati non ufficiali Di Petrucci e company Si inserisce buzz Attenzione Ultima curva Ultima curva Eh vabbè però dove cacca sfida passano Dai, dai Non è possibile Vabbè Quattordicesimo Va bene Almeno abbiamo preso qualche punto Però qualcuno lì ha tagliato in fondo Mamma mia ragazzi Che battaglia È una cosa assurda Provano a passarmi in tutti i modi Ehm Va bene Vince Rossi Secondo Lorenzo Terzo dovizioso Io arrivo a quattordicesimo Almeno qualche punto Dovrei riuscire a prenderlo Vediamo Ho preso due punti Non male Bene così Ok Due punti anche per l'apriglia Incredibile Ragazzi direi che possiamo terminare Questo episodio di Valentino Rossi qua Lo so Vi avevo detto all'inizio del video Che avrei fatto due gare Però sono abbastanza stanco Quindi direi che va bene così Ehm Ragazzi come sempre Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su VR46 The Game Alla prossima ragazzi